Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori per avermi voluto qui per tanti motivi, uno perché fare i punti della situazione alcune volte può essere utile perché occupandosi quotidianamente di un tema alcune volte si perde o si può perdere una visione prospettica e di insieme, due perché il tema dei geodati è un tema che mi appassiona molto, come dire avendo insegnato sette anni fa, otto anni fa in master G7 rilevamento, ancora prima che si parlasse di open data, si parlava di disponibilità del dato pubblico, già allora di inspire e via discorrendo tutti i temi che voi conoscete molto bene, quindi provare a capire come in una continuità di temi, di fatto stiamo ragionando delle stesse cose ma in contesto completamente diverso, Michele con bontà mi ha definito pioniere dell'open data, quando abbiamo iniziato a ragionare di questi temi e qui torno al tema del mio intervento, ricordo che il primo post sul blog che scrissi sugli open data si chiamava la via italiana agli open data, era il gennaio del 2010 ed io ero rimasto colpito da questa direttiva Obama del dicembre del 2009 e mi chiedevo ma se lo volessimo fare in Italia da un punto di vista normativo, io sono un avvocato quindi voi mi perdonate. Che cosa ci mancherebbe? E allora io all'epoca feci una lista della spesa e come dire, feci tutta una serie, diciamo che ho diviso la mia relazione sullo stato dell'arte in passato, presente e futuro, un po' ieri, oggi e domani. Che cosa c'era ieri? Quando io ho iniziato a parlare e a pensare, prima ancora di parlare perché il tema interessava in pochi, vedere un auditorium così pieno oggi, come dire, se penso ai primi convegni sull'open che quando lo andavamo a spiegare è abbastanza interessante. Ci ponevamo una serie di compatibilità della prassi degli open data nella pubblica amministrazione e del conseguente riutilizzo con tutta una serie di norme preesistenti, parlavamo con la legge sul diritto d'autore, cercavamo di forzare la trasparenza sulla 241 del 1990, poi c'erano i problemi di privacy che sono dei temi che ancora oggi il nostro garante non dimentica mai di ricordarci. Avevamo poi un'altra serie di temi, il codice dell'amministrazione digitale che parlava di disponibilità del dato pubblico e una serie di altre normative che qui vi ho individuato. Ed allora noi ci andammo a costruire un'operazione di hacking giuridico che cosa diceva? Diceva guardate care amministrazioni l'open data lo potete fare, non siete obbligati a farlo ma potete farlo. Qual è stato il risultato? Il risultato è sotto gli occhi di tutti. In assenza di obblighi c'era prima il dottor Tortorelli che ha detto una cosa molto condivisibile e che ha detto dobbiamo evitare che l'open data sia un tema percepito come obbligo normativo. Attenzione, le amministrazioni italiane non fanno neanche quello che è obbligatorio. Quindi partire da questa attestazione è parlare del migliore dei mondi possibili, quello in cui le amministrazioni fanno quello che è eticamente corretto fare. Però visto che avendo studiato teoria generale del diritto nel primo semestre della facoltà di giurisprudenza mi hanno insegnato che le norme servono perché le persone fanno cose stupide e soprattutto non sempre quello che è etico e corretto fare. Abbiamo capito nel corso di questi anni che non è bello ma le norme in materia di open data aiutano nel momento in cui Michele parla di interoperabilità. Il primo livello di interoperabilità è un livello normativo per quanto mi riguarda. Perché? Perché se io non ho una norma che obbliga le amministrazioni a fare open data di fatto discrimino, discrimino i cittadini. È possibile che il cittadino che si trova nel comune di Firenze sia avvantaggiato rispetto al cittadino io sono proveniente da Potenza che sia avvantaggiato? Cioè stiamo dicendo che nel digitale noi andiamo a creare una discriminazione basata su qual è l'amministrazione più intelligente? Beh secondo me non è corretto. Secondo livello imprenditoriale. Di fatto cosa succede? Succede che io non avendo obblighi da parte di tutte le amministrazioni del territorio nazionale andrò a limitare quelle che possono essere le iniziative oltre a penalizzare contesti imprenditoriali. Ecco cosa servono le norme che diano un livello minimo di open data. Ecco allora che mentre noi parliamo di queste cose proviamo a costruirci un hacking giuridico, noi avevamo fatto delle interpretazioni dicendo amministrazioni lo potete fare trasparenza nel 2010, nel 2011 si vica a fare open data. Che cosa è successo? È successo che prima alcune regioni hanno iniziato ad essere aggressivi, ad adottare delle normative, delle leggi regionali in materia di open data. Questa è la mia mappa delle leggi regionali in materia di open data, come vedete ci sono dei semafori verdi che mi dicono quali sono le regioni che già hanno adottato delle leggi regionali, i pallini rossi sono quelli che ne parlano e basta, il pallino giallo è una legge meramente di principio, non dettagliata. Ovviamente anche in questo caso, e secondo me è interessante capirlo, la regione Piemonte è stata la prima, così come è stata la prima ad avere un portale regionale, è stata la prima ad avere una legge regionale, perché secondo me anche in regione Piemonte ci si è resi conto della necessità di andare oltre il livello dell'iniziativa. Cosa succede se cambia la giunta dopo le elezioni, se il dirigente che aveva presidiato quel tema fa un 6 al superenalotto e quindi lascia l'incarico? No, abbiamo bisogno di dare continuità, perché altrimenti quale impresa svilupperà servizi? Si parlava prima dei ritorni, ma quale impresa sviluppa servizi se non ha la possibilità, perdona, se non ha la consapevolezza di potersi approvvigionare di una materia prima? Io non investo, cioè è inutile che spendo in sviluppo di soluzioni se so che quel tipo di dato potrebbe non più essere aggiornato, oppure tra sei mesi potrei più non trovarlo online. Anche il legislatore statale, grazie al lavoro che è stato fatto con l'agenda digitale, ha iniziato ad occuparsi di questo tema e quindi parliamo in particolar modo dei due provvedimenti che nel 2012, decreto sviluppo e decreto sviluppo bis, hanno riguardato la materia e rappresentano il presente degli open data in Italia. In particolar modo il decreto sviluppo bis, il 179 del 2012 convertito in legge 221 del 2012, dà un inquadramento generale all'articolo 9 introducendo nel codice dell'amministrazione digitale questo principio. Nel codice dell'amministrazione digitale si parlava già di disponibilità del dato pubblico, l'agenda digitale fa un passo in più, detta una definizione di formato di dati di tipo aperto, detta una definizione del dato di tipo aperto, le definizioni normative per carità non è che appassionano nessuno però mi danno un livello a cui ormai possiamo fare riferimento. Sono tra tecnici, voi parlate di standard, abbiamo creato il nostro standard normativo ed è importante che tutti noi lo seguiamo. Dopodiché abbiamo una serie di prescrizioni molto importanti con il nuovo articolo 52, tra l'altro alcune delle quali tra breve diventeranno pienamente operative perché noi siamo tutti presi a parlare delle lezioni o di altre cose, nel frattempo il tempo va avanti, queste regi sono state pubblicate a dicembre, una serie di termini che sono previsti scadono e le amministrazioni che io ne sappia se ne stanno bellamente disinteressando. Vi leggo soltanto queste norme, la prima ci dice che l'accesso telematico a dati e documenti e il riutilizzo è disciplinato secondo le disposizioni del presente codice, quindi viene sancito un principio di accesso telematico doveroso a dati e documenti e c'è scritto che le pubbliche amministrazioni, tutte, stiamo parlando del codice dell'amministrazione digitale quindi destinato dal comune all'università, per chi non lo conoscesse, al ministero, quindi stiamo parlando di tutte le amministrazioni pubbliche e anche di più perché stiamo parlando anche delle società a prevalente totalitario capitale pubblico con tutto quello che questo comporta in termini di dati. Bene, c'è scritto che questo devono pubblicare all'interno della sezione trasparenza, valutazione e merito il catalogo dei dati e dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso e di regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e riutilizzo. Cosa vuol dire? Vuol dire che le amministrazioni sono chiamate a un processo prima di censimento, cioè che dati ho? Che è un processo che in ogni operazione di liberazione e apertura del dato, come voi vogliate chiamarlo, è stato sempre critico, dopodiché devono pubblicare queste informazioni online unitamente alla loro strategia in materia di open data e ai regolamenti sull'utilizzo, quale licenza scelgo e via discorrendo. Questo obbligo entra in vigore, il termine per l'adeguamento scade tra pochi giorni, cioè scade entro il prossimo mese. Poi c'è quest'altra esposizione che è il comma 2, dice che i dati e i documenti che le amministrazioni pubblicano con qualsiasi modalità si intende rilasciato come dato di tipo aperto, che è anche un'innovazione abbastanza interessante, il principio dell'open by default come è stato definito, cioè quello che è pubblicato sul sito può essere riutilizzabile da chiunque. Ovviamente vi dico la mia, secondo me questo non ci esonera dall'adottare delle licenze, nella misura in cui non pensate che chi accede ad un sito sia necessariamente un leguleio e sappia che esiste l'articolo 52,2 del CAD. Cioè io soprattutto se voglio davvero che lo sviluppo e riutilizzo sia reale ed effettivo e magari il dato sia riutilizzato anche da chi non è nel territorio italiano, io vengo quotidianamente richiesto da clienti che stanno all'estero di versioni inglesi della normativa italiana perché nessuno si rassegna al fatto che in Italia le leggi non vengano tradotte dall'autorità anche in lingua inglese perché noi siamo autoctoni quindi se c'è un investitore, uno sviluppatore, un programmatore gli imponiamo di farlo. Per quanto il Google Translate funzioni capite bene che se sono un'azienda non mi fido di quel lavoro lì perché voglio essere sicuro allora utilizzare uno standard che sia Creative Commons che sia ODBL che sia quello che volete voi però utilizzare una delle licenze esistenti, gli ODL e quello che è, è sicuramente dare un punto di riferimento importante. Su un punto volevo dire, prima si diceva qual è il ritorno di queste operazioni e soprattutto si faceva riferimento al fatto che le amministrazioni lo fanno a costo zero. Io lancio un appello, l'articolo 52 del codice dell'amministrazione digitale è stato riformato, come vedete in senso progressista c'è dentro l'open data, però è stata abrogata l'unica norma che secondo me poteva essere funzionale che prevedeva il ricorso al project financing per l'open data, era l'articolo 52, il comma era l'1bis ed è un comma che è stato molto sottovalutato perché le amministrazioni che sono chiamate a fare sostanzialmente open data a costo zero alcune volte lamentano l'impossibilità di poterlo fare. C'era una norma che invece diceva che se c'erano soggetti che potevano farlo, il project financing tendenzialmente lo facciamo per l'edilizia scolastica o per i parcheggi, però c'erano dei soggetti interessati a farlo anche per i dati, stiamo parlando molto della normativa europea sulla public sector information. Ecco io lo ripristinerei perché secondo me ci stupiremmo nel vedere quanti possono essere i soggetti privati che investono in operazioni di project financing, cioè di finanza di progetto legate al dato pubblico. Dopodiché c'è stata anche la norma dell'articolo 18 sull'amministrazione aperta che tanto ha allarmato le amministrazioni, dal primo gennaio 2013 tutti i dati della spesa pubblica devono essere online in open data. Noi come Agora Digitale, sono responsabili legali di questa associazione che si chiama Agora Digitale, abbiamo fatto grazie a questa norma un monitoraggio delle amministrazioni, se andate sul sito eradelatrasparenza.it, un monitoraggio civico in crowdsourcing, ci abbiamo detto ai cittadini, andate sui siti delle vostre amministrazioni, vedete se trovate questi dati e compilate un form in 10 minuti, dedicateci 10 minuti. In una settimana abbiamo ricevuto oltre 1022 segnalazioni, mappando tutti i ministeri, le ASL, i capologhi di regione e le regioni, i capologhi di province e le province, poi sui comuni ovviamente essendo 8000 abbiamo una percentuale un po' più bassa e ne è uscita fuori questa mappa, come dire, che però dal mio punto di vista, come dire, la mappa non è molto lusinghiera, ci dice che per esempio le amministrazioni guidate da donne sono quelle che fanno più open data rispetto a quelle guidate dagli uomini, il quadro geografico è inutile che io ve lo dica perché lo vedete da voi, dove sono collocate, prima ne parlava anche Gianni Dominici, ed è un mio vecchio pallino quello della questione meridionale degli open data, cioè sulla scarsa propensione delle amministrazioni meridionali, tanto a fare trasparenza quanto a fare innovazione, però questo dato ce lo conferma. Che cosa succede? Noi stiamo andando verso un ulteriore, tra l'altro proprio in questa materia, primo sentivo di pianificazione, il futuro nel momento in cui abbiamo dato lo standard qual è? Non è soltanto quello di esperienze che riutilizzino i dati, ma è questo il futuro. Forse ne avete sentito parlare perché è stato ripreso anche dai quotidiani, dagli organi di informazione, questo è il decreto che si chiama trasparenza, il decreto che sarà pubblicato e è stato adottato dal Consiglio dei Ministri nella sessione della seduta del 15 febbraio 2013 che prevede la riorganizzazione di tutti gli obblighi di trasparenza delle amministrazioni italiane. Il problema è che negli obblighi di trasparenza dal bilancio alla spesa, alla consulenza, al contratto, ma si parla anche dei dati relativi alla pianificazione e al paesaggio che saranno presenti in un'apposita sezione, sotto sezione del sito che si chiamerà amministrazione trasparente, quindi anche qui uno standard di interoperabilità, non ogni amministrazione deciderà dove e come metterlo, ma le metteranno tutti nello stesso posto. Vi cito soltanto questa norma e chiudo tranquillizzando il moderatorio, almeno cercando di farlo. L'articolo 7 di questo decreto, nella versione che dovrebbe essere stata approvata, uso il condizionale perché sempre per la trasparenza il provvedimento è stato approvato in Consiglio dei Ministri, ma fino alla pubblicazione in gazzetta ufficiale ancora non sarà trasparente, dice che i documenti, le informazioni e i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria, quindi ripeto praticamente tutto, dai dati relativi al rapporto di lavoro dipendente, ai dati della pianificazione e al governo del territorio, come è stato detto prima, sono pubblicati in formati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale e sono liberamente riutilizzabili. Quindi praticamente viene affermato un principio fondamentale per cui tutti gli atti che devono essere pubblicati devono essere open data, tanto da un punto di vista tecnico di formato, tanto da un punto di vista giuridico di riutilizzabilità anche per finalità commerciali. Io credo che questo apra una grande rivoluzione, ovviamente tutto a costo zero e dentro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale. Buon divertimento. Grazie. 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 Grazie.